E continuiamo il nostro viaggio nella Valle del Fitalia, siamo nel centro storico di Frazzano e qui abbiamo la chiesa madre, una delle chiese di questa comunità. Una delle chiese intanto buongiorno, un saluto a voi, grazie per questa visita, per questa occasione che ci date per poter parlare di questo piccolo centro dei Nebrodi. Questa è la chiesa madre, la titolare è proprio la Madonna, la Beata Vergine Maria Annunziata. Ecco appunto ci troviamo a Frazzano ed è la chiesa principale. All'interno di questa chiesa madre abbiamo detto che ci sono delle reliquie importanti. Queste reliquie erano prima conservate proprio al convento di Fragalà, successivamente portate poi in chiesa madre ed è anche una particolarità perché non in tutte le chiese appunto le reliquie vengono esposte in questo modo. Però ci sono molte reliquie, appunto dicevo le reliquie di San Calogero, attualmente vi sono anche alcune reliquie di San Lorenzo insieme anche alla statua che poi naturalmente vedremo tutto. Ma abbiamo le reliquie dei Santi Pietro e Paolo, Santa Lucia, San Luigi Gonzaga, San Luca, alcuni pezzetti del manto della Madonna. Ecco insomma io chiamo sempre quell'angolo l'angolo di paradiso perché la nostra fede appunto ci chiede, ci domanda di credere alle reliquie. E quindi Frazzano è un angolo di paradiso proprio per questa santità, ma i Santi cosa è che ci dicono? Di vivere una vita santa. E quindi ecco questo qui. Abbiamo parlato delle reliquie ma all'interno della chiesa madre di Frazzano c'è anche un tesoro di arte, una delle opere dei Gaggini realizzate qui in Sicilia, realizzate anche in diversi comuni della Valle del Fitaglia. Ci parli un po' di quest'opera che troviamo nello specifico all'interno della chiesa madre di Frazzano. Sì appunto la chiesa ha il suo nucleo centrale che è proprio quest'opera del Gaggini, una bellissima statua marmorea della Vergine, è contenuta dentro un'opera altrettanto bella e maestosa che è proprio il suo altare. Abbiamo anche l'organo ancora funzionante. C'è tanto da vedere, ma quando è visitabile la chiesa madre, quindi quando è possibile ammirare da vicino tutti questi tesori? Praticamente sempre. Tappa obbligata allora, chi visita la Valle del Fitaglia, una sosta a Frazzano, una visita alle chiese di questa cittadina e in particolare alla chiesa madre? Sì sì, se non vuole perdere appunto un gioiello, onestamente è veramente un gioiello per l'arte, per la fede, per la devozione, un gioiello dei Nebrodi. Sì sì, se non vuole perdere appunto un gioiello. Sì sì, se non vuole perdere appunto un gioiello. Sì sì, se non vuole perdere appunto un gioiello.